Siamo con Mr. Mijailovic, Mr. Complimenti per questa vittoria, un commento sulla prestazione di questo Toro in questa amichevole? Oggi non abbiamo giocato bene, abbiamo vinto ma non abbiamo giocato bene. Primo tempo eramo troppo lenti, non aggressivi, loro erano più in palla ma penso che è anche normale perché sono più avanti di noi in preparazione. Noi ancora non siamo arrivati a fare questi lavori di brillantezza su campo stretto perché ci andavano via i primi due metri, prendevano sempre prima, secondo il palle ma questo tutto perché comunque stavano meglio fisicamente di noi. Poi da questa settimana cominciamo a lavorare anche sulla brillantezza ma comunque squadra ha cercato di fare cose bene. Nel secondo tempo siamo partiti meglio, un pochino più aggressivi e abbiamo fatto subito due gol. Diciamo risultato positivo, prestazione forse un po' meno a rispetto delle ultime due partite però ci può stare anche stanchezza, è tutto caldo e loro avanti in preparazione sicuramente questo ci è penalizzato. Però anche questo è un segno positivo, giocando non bene, comunque abbiamo vinto e andiamo avanti, lavoriamo su cose, sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e cercheremo di essere pronti per 11 e per 20 quando comincia il campionato. Grazie a tutti.